golden state warriors contro boston celtics le nba finals 2022 mordente è non marco non ma neanche a roma quando devi fare l'otturazione scusate in questo momento mi manca ore di sonno ventilatori ma in meno un paio mi servirebbe uno di qua e uno di là e capelli capite che più più di questo no non si vuole richiedere mordente inteso come quella cosa che succede che servirebbe nel momento in cui la partita o a questo punto la serie sale improvvisamente di tono proviamo a arrivarci passo passo te poi anche avere la miglior difesa dell'nba una delle miglior difese dell'nba poi anche avere la difesa dei boston celtics eppure non è detto che tu riesca a difendere bene contro golden state perché un conto è una squadra normale tradizionale con un attacco più o meno forte ma è un conto è golden state passi la gente che tira da metà campo ci può le sta quello che non ci sta è che se ti vengano a portare un blocco praticamente a metà campo cosa è già di per sé insomma è normalissima la decisione del palleggiatore a 2 14 sui cronometro del terzo quarto e con 17 secondi nell'azione fondamentale cioè non sta scadendo il tempo la decisione del palleggiatore arresta il tiro da 10 metri non la poi mette in conto una roba di perché non la fa nessuno cioè la fa golden state e basta a parte tragici tentativi di emulazione dei ragazzini che guardano le partite in televisione poi vanno sul campo no a fare però a parte questo non è normale c'è di solito nel grande libro della difa voi immaginate questo questo manoscritto arto così con sopra tre diti di polvere così te lo pigli tu l'apri cominci a leggere e non c'è scritto che a 10 metri dai canestro te devi andare con te cioè c'è scritto proprio a 10 metri dai canestro se quello tira cioè no cioè se è matto e ha affari il problema è che quello non è matto è stefan carri contro stefan carri se sul cambio contesti tiro è facile che tu ne pigli quattro sul capo e rizzati se invece stai lontano è allora proprio non ci metti mano capite che è complicata la faccia è complessa no la situazione e questo è il motivo fondamentalmente per il quale golden state è avanti 3 a 0 nella serie è non proprio non proprio e avanti boston 2 a 1 perché nonostante questo nonostante i problemi nonostante le decisioni tattiche da dover prendere nonostante i compromessi ai quali devi gioco forza scendere se ti vuoi adattare a difendere contro l'attacco di golden state nonostante tutto questo nel momento in cui si decidevano le partite boston c'è sempre stata è proprio una questione di di tempra di di carattere di durezza mentale di mordente di bell'appunto boston è passata sopra a golden state per aggressività fisica ma anche mentale nel momento in cui c'è stato da portarsi a casa almeno due partite di questa serie il basket di golden state i terzi quarti di golden state il basket champagne di quando prendano fiducia e giocano sui velluto sull'entusiasmo è una delle cose più belle che si possa vedere cioè proprio ti fa fare pace con la pallacanestro il fatto è che per vincere a questo gioino qui che è maledetto in tutti i sensi bisogna anche essi in grado di sporcarsi le mani e le reazioni di draymond green in questo senso tra parentesi opinione mia personale che però non posso esimermi dal dal mettere proprio a imperitura memoria anche in futuro qui in questo video graziato dagli arbitri draymond green in gara 2 opinione mia se non si fosse trattato di un fischio e di fatto lo avrebbe espulso dalla partita per somma di sanzioni quello lì sarebbe stato un fischio diverso questa è la mia idea in gara 2 poi siccome era draymond green siccome è altrimenti e sarebbe dovuto uscire l'anno grazia questa è la mia la mia idea l'anno grazia però al di là di questo in in quell'occasione lì e in generale tutte le manfrine tutte le sceneggiate tutto questo attirare l'attenzione su di sé le reazioni così plateali di draymond green vanno in questa direzione perché il termometro emotivo della squadra ce l'ha lui tre gare di finale ci hanno raccontato fino a questo momento che sorprendentemente per certi aspetti perché clay thompson ha avuto una marea di infortuni stefan curry in parte anche in più nel reparto degli esterni c'è un discreto affollamento ora rispetto ai tempi dei tempi con jordan pool con wiggins e con tutta quella gente lì ma nonostante tutto questo e da qui il sorprendentemente dei big three il giocatore che è cambiato un po di più forse è proprio draymond green ho detto cambiato perché invecchiato non c'ho coraggio in parte lo dicono anche i numeri rispetto agli anni da titolo nei playoff gioca di meno ma soprattutto produce di meno a 360 gradi perché comunque di fenomeno stiamo parlando però produce di meno e nello specifico di queste finals la cosa si rende ancora più evidente anche se chiaramente sono solo tre partite io credo che tanto del futuro di questa serie passi proprio dalla testa nello specifico di draymond green perché le redini emotive del gruppo ce l'ha lui e se c'è un giocatore che può essere in grado di toccare le corde giuste di far salire di livello gli altri dal punto di vista proprio dell'aggressività e qui giocatore lì per forza di cose deve essere draymond green perché te puoi anche essere più forte potenzialmente con più talento con più punti nelle mani puoi anche essere più bello da vedere da un punto di vista proprio di estetica della pallacanestro però se quell'altri ci hanno più fame se quell'altri ci hanno più voglia alle finals ti passano cioè la pallacanestro è crudele non è che lo si scopre oggi e proprio per questo io credo che draymond green da sempre leader anche troppo per certi aspetti vocale di questo gruppo possa da qui alla fine in questo senso combinarne di tutti i colori ma in tutti i sensi letterale brutti sporchi e cattivi filmone di ettore scola con tra gli altri nino manfredi datato 1976 e chi vinse chi vinse in 1976 in nba ragazzi e quando è destino è destino boston questo vantaggio fine ora se l'è conquistato con la voglia col sudore con la grinta con le lacrime con tutto quello che di più viscerale c'è all'interno di questo sport sono tutte cose che però capite bene non sono particolarmente numerabili quantificabili statisticabili c'è però un dato interessante un dato dell'attacco nello specifico di boston che ci può dare qualche dritta in più per potrei decifrare un minimo la difesa di boston un dato dell'attacco perché nella pallacanestro è così è tutto il contrario di tutto è come quando c'hai a che facco barclay lui dice una cosa e è esattamente l'opposto di quello ha detto darvi nam ai leherz e un po le funzionare perché è troppo giovane carletto io non so come ditelo a me è un garba manca me ma non pecco desto perché se no è comunque al di là di tutto dato sull'attacco di boston si diceva boston ha vinto gara 1 con tre uomini sopra i 20 punti al orford jelen brown e derrick white ha perso gara 2 dove solo tatum è andato sopra 20 e poi ha vinto gara 3 con altri tre uomini sopra i 20 brown tatum e smart perché succede questo perché la difesa è una costante cioè il progetto si fonda sulla difesa le fondamenta della costruzione vertono sulla difesa la difesa c'è sempre a prescindere da tutto e questo è il motivo per il quale l'attacco poi eventualmente diventa la discriminazione non c'è un'altra squadra in nba che ha un intimidatore d'area del livello di robert williams quando chiaramente sta bene time lord e si vede parecchio la differenza di quando sta bene e quando non sta bene e però allo stesso tempo c'ha due giocatori che leggono la palla canestro difensivamente ma non solo come orford e white due stelle duttili non solo attacco ma anche soprattutto difesa come tatum e brown e poi semplicemente il difensore dell'anno no sui perimetro marcus ma non c'è un'altra squadra ecco perché l'attacco diventa il surplus con tre uomini da 20 punti in altre due partite ci dicono i numeri che boston vince l'anello la cosa positiva è che possano anche essere sempre diversi imprevedibilmente anche grant williams potrebbe alternarsi a quelli che già ci sono stati ecco perché gara 4 diventa particolarmente succulenta e interessante per quel che mi riguarda una delle diatribe più annose della storia recente della palla canestro riguarda per l'appunto il cosiddetto pivotal game cioè quella partita che fa in un certo senso da spartiacque ci sono delle scuole di pensiero che vedono il pivot con questa propria pronuncia tipica anglosassoni pivot al game come prestabilito a priori cioè a prescindere da tutto nel una serie al meglio delle sette il pivot al game è sempre però qui e ci si divide tra chi dice gara 5 gara 4 gara 3 questo è il motivo per cui secondo me non è prestabilibile come come cosa anzi dipende nello specifico di questa serie per me secondo me il pivot al game è proprio gara 4 quella che ci attende in questo momento perché da un lato se vince golden state va 2 a 2 quindi per certi aspetti è quasi come infortuni e stanchezza a parte se si ripartisse da 0 2 a 2 se però dovesse vince boston io vi dico la mia non me lo riesco a immaginare un futuro distopico in cui questi celtics in questo momento del loro percorso proprio dire al di là dei numeri al di là di fatto che dopo una sconfitta rivincano sempre al di là del fatto che da gennaio hanno vinto uno stomfo di poi non mi interessa niente vedendoli giocare io non 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 concepisco che possano poi perderne tre a fila ecco perché secondo me gara 4 diventa particolarmente interessante al di là poi di fatto che la differenza d'esperienza sta tipo 120 a 0 non so numeri a caso cioè prima di queste finals i giocatori degli warriors avevano giocato tipo 120 e rotte partite di finals tutti quelli dei celtics allenatore compreso 0 però al di là di tutto questo l'obiettivo fondamentale per boston per approcciarsi a questa gara 4 deve essere quello di cercare di limitare l'onda emotiva cioè quando parte l'effetto valanga segnatamente più o meno intorno ai terzo quarto però dipende quando vedi che loro cominciano un attimo a pigliare fiducia che cominciano a giocare spensierati sui velluti una tripla due tripli bisogna fermare bisogna spengere proprio le luci dei rifiuti bisogna buttare uno in mezzo ai campi bisogna fermare l'inerzia in momento fare qualche cosa arzare il canestro è tipo arzare il canestro no io arzare i canestro ma secondo me è venuta a pierce l'idea o a un altro ma che però ha preso perché ha preso lui è perché per chi è arrivato in fondo ai video facciamo questo piccolo momento smr no pe altro ma perché ho staccato l'amplificatore se bercio di più vi staso i timpani per dire che mi sono deciso a mettere in piedi una rubrica per dove il canale si sarà fermato finite le final settimana di pausa poi si riparte una rubrica che a mettere a mettere a mettere a mettere in piedi